Sara Barbieri, la fidanzata di Fabrizio Corona, è incinta. Ma cosa è successo durante l'ultima ecografia? I dettagli. Fabrizio Corona è così. O lo si ama o lo si odia. Proprio di recente, durante l'ultima ecografia della sua fidanzata incinta, l'ex re dei paparazzi si è fatto come al solito riconoscere. Qual è stata la reazione di Sara Barbieri? Sara Barbieri, la giovane fidanzata di Fabrizio Corona, è incinta e ovviamente si sta sottoponendo a tutti i controlli necessari per tenere traccia dell'andamento della gravidanza. Nelle scorse ore, però, l'ex marito di Nina Morich si è fatto riconoscere per le sue dichiarazioni colorite. Commentando l'ecografia a cui si è sottoposta la sua fidanzata incinta, Corona ha lanciato una fragorosa bestemmia su Instagram. Successivamente, poi, in un'altra story, ha anche insultato le tempistiche della gravidanza stessa. In tutto questo, però, Sara Barbieri, si è limitata a rimanere in silenzio. D'altro canto, si sa, Fabrizio Corona ama essere eccessivo, nel bene e nel male. Il termine della gravidanza di Sara, comunque, è previsto per il prossimo 25 dicembre, proprio il giorno di Natale. Nemmeno a dirlo, su questa casualità, l'imprenditore sta giocando molto. Ma per quale motivo ha bestemmiato durante l'ecografia? Fabrizio Corona bestemmia durante l'ecografia della fidanza incinta. Sara Barbieri, la fidanzata di Fabrizio Corona, si è sottoposta a una visita dal suo ginecologo, e in quell'occasione l'ex re dei paparazzi non ha mancato di aggiornare i suoi followers con una storia su Instagram. La sua dolce metà, incinta, dovrebbe finire il tempo proprio il prossimo 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù Bambino. Ma perché durante l'ecografia Corona ha tirato una bestemmia? A quanto pare, senza alcun motivo apparente. Nel frattempo, inquadrando la sua fidanzata incinta, le ha chiesto di ripetere quando dovrebbe nascere il loro bebè. Sara Barbieri, quindi, ha detto, 25 dicembre, ci farà questo regalino. Lui, dopo queste parole, ha aggiunto, beh, d'altronde è figlio di Dio, e non poteva nascere un altro giorno. Subito dopo queste parole, poi, è arrivata la bestemmia da parte dell'ex marito di Nina Moric. Il tono dell'imprecazione è risultato oltremodo alto, e con il chiaro intento di farlo sentire. Ancora, poi, Fabrizio Corona ha avuto da ridire sulle tempistiche della gravidanza. Comunque il periodo della gravidanza dura troppo e nessuno ha il coraggio di dirlo. Che due coglioni. Sara Barbieri sarà mamma di un maschietto. Come sappiamo, Fabrizio Corona è già padre di un figlio maschio, nato nel 2002 dal matrimonio con Nina Moric. Oggi il 22enne vive con suo padre, e il rapporto con la madre è stato spesso costellato da momenti difficili. Il ragazzo, Carlos Maria, tuttavia non sta passando un periodo roseo. Attualmente si trova infatti in comunità. Corona, quando ha preso della gravidanza di Sara Barbieri, ha immediatamente sperato che questa volta si trattasse di una femmina, ma a quanto pare la vita ha avuto per loro altri piani. Anche in questo caso, dunque, l'ex re dei paparazzi diventerà padre di un altro maschietto. Per la sua fidanzata è il primo figlio.